Esdra si era dedicato con tutto il cuore allo studio e alla pratica della legge del Signore e a insegnare. Esdra, capitolo 7, versetto 10. La parola di Dio Il versetto della nostra meditazione di oggi mette in evidenza una delle qualità di Esdra che spiccavano, il suo attaccamento alla parola di Dio. Esdra era un profondo studioso della scrittura. Quello che comprendeva della parola di Dio lo realizzava e lo metteva in pratica nella sua vita. Tutto questo aveva generato in lui l'impegno di far conoscere al popolo la volontà di Dio rivelata attraverso la Sacra Scrittura. La Bibbia è la parola di Dio, essa è stata ispirata in ogni parte dallo Spirito Santo e non contiene errori. È la scrittura sacra che rivela a Dio la persona e l'opera di salvezza di Cristo Gesù, il Figlio di Dio. Caro amico, apri questo meraviglioso libro e leggilo con un cuore desideroso di conoscere Dio ed Egli si rivelerà alla tua vita. La parola di Dio opererà in modo profondo trasformando la tua esistenza. Avrai così modo di sperimentare dei benefici e trovare conforto, aiuto, guida e ogni bene spirituale che proviene solo dalla parola che rivera Cristo, il Signore.